25esima giornata di campionato, sta per iniziare Frosinone Roma Baldazzi appoggio per Asbun, entra in area quasi, poi Baldazzi finta il tiro taglio di Esciarawi, parla per lui dentro l'area di rigore, non ci arriva Stefano, non la finisce fuori poi Esciarawi ancora verso Lukaku, da sinistra in area Lukaku, Lukaku, Lukaku Durati arriva anche Angherigno, si accettra Sule, il tiro fuori di nulla mamma mia ancora Sule, ripunta il limite, dentro per Caio George, ancora Sule, sempre al limite, il tiro fuori che parata di Svilar il cross in mezzo, sfida il pallone, il tiro, Svilar, ancora Svilar e poi Caio George fuori al cerchio del centrocampo, salta Caio George, avanza l'olandese, punta il limite, ancora Uisen, sterza, zona tiro, il tiro GOOOOOOOL, GOOL, GOOL, mamma mia, mamma mia Dean, che cosa hai fatto? Frosi non è 0, Roma 1 Sale anche Lirola, Sulea al limite 1-1 con Noiz e nel tiro Oh, fuori Sulea che sterza si accentra il cross Verso il secondo palo Sponda dentro, rinvio di Mancini In avanti poi il tiro al volo di Mazzitelli Punto al limite, Sciarawi Fuori Ristante la botta, Durati Poi arriva Sardin Asmund Dentro Asmund e Sciarawi Ancora Baldanzi, il tiro ribattuto Forse mano, forse mano Forse mano giù Vediamo un po' la decisione Calcio di rigore per la Roma Va Paredes Paredes Frosi non è 0, Roma 3 Il difente su Celic, Cristante Casarui, dentro il pallone per Valeri Linea di fondo Valeri Il cross Svilar Calcio d'angolo Fischia giù Vince la Roma Frosinone 0, Roma 3 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.